Siamo qui con Emanuele Feliciani. Emanuele, parlaci della partita. È stato un 4-3 combattuto. Sì. Insomma, venivate da un buon periodo. Una serie, diciamo, positiva, dopo un periodo un po' negativo. Sì. Siamo partiti un po' troppo molli. Abbiamo preso 3-4 pali. Quattro pali. E lì poteva andare un po' meglio. Hai fatto una bella partita comunque. Sì, dubbiamente. Poi ci hanno punito in due occasioni, siamo stati bravi. E poi ne siamo riusciti fuori. Abbiamo fatto due pari, tre pari. Poi al fine è stato un finale un po' combattuto. Nonostante che eravate, insomma, contati, avete fatto tutto sommato una buona partita. Una buona gara. Che tutto sommato non rispecchiano i 24 punti che avete in classifica. No, forse no. Siamo partiti male. E abbiamo fatto un campionato iniziale, diciamo, pessimo per le nostre aspettative. Anche se non puntiamo, diciamo, al primato. Quindi per fare, diciamo, bene. Un buon campionato, diciamo. E infatti l'obiettivo che ti chiedo è quello che... Di solito era, diciamo, avvicinarsi il più possibile alla zona playoff. Quest'anno dobbiamo essere un po' più realisti. Partita per partita ce la giudiamo e vediamo dove arriviamo. Ok, ti ringrazio Emanuele. E in bocca al lupo per il campionato. Ciao. Ciao.